Musica Ciao a tutti e bentornati nel mio canale Oggi tutorial in collaborazione con il sito Craspire Questo è il secondo tutorial che realizzo per questa ditta Se vi siete persi il primo tutorial e anche l'unboxing Ve le linko qui nella e di informazione e anche in descrizione di questo video Vi lascio anche il codice sconto attivo per i miei iscritti Che è Giulia5 per avere 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari In questo tutorial andremo a utilizzare questi marker Che ho scelto appunto dal sito di Craspire Questo è il codice del prodotto Come vedete sono presenti questi bellissimi marker Tutti col finish metallizzato E questi voglio utilizzarli in modo diverso Infatti andrò a rinnovare un paio di scarpe Adidas E andrò appunto a utilizzare questi marker Siete pronti? Iniziamo! Ed eccomi qui Andremo a rimodernare questo paio di scarpe Adidas Superstar Queste scarpe le ho acquistate esattamente 6 anni fa E come vedete la suola si è ingiallita Sono state utilizzate quasi tutti i giorni Queste scarpe perché sono le mie preferite Ovviamente ho altre superstar Che fortunatamente non si sono ingiallite le suole E quindi queste voglio assolutamente rimodernarle Rinnovarle e andrò ad utilizzare appunto i marker scelti dal sito di Craspire Andrò a utilizzare sia un marker per il fondo nero E ho utilizzato il viola e il dorato Per andare a colorare queste striscioline laterali appunto del logo Adidas Per dargli un tocco in più alla scarpa E' davvero molto semplice e facile Questi marker sono davvero molto scriventi E ho provato anche a testare questi marker una volta asciutti E sono perfetti Li ho testati appunto con l'acqua Facendo appunto scivolare dell'acqua sopra la scarpa E restano intatti e qui E qui Per la suola ho utilizzato un penterello nero ma volendo potete tranquillamente utilizzare i marker metallizzati di Craspire. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Questo è il risultato finale, vi piace? Ovviamente adesso potrò nuovamente indossare le mie Adidas Superstar, mi piangeva il cuore tenerle lì in un angolino, ma non mi piaceva affatto che la suola fosse diventata gialla e quindi adesso potrò ovviare a questo con questi marker. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutti! Grazie a tutti!